Buongiorno e bentornati in questa edizione di Mattino 6. Venerdì 12 maggio 2017, pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e per vedere anche le prime pagine delle principali testate nazionali. Iniziamo subito con le quattro edizioni del centro, le prime pagine chiaramente, qui siamo sull'edizione aquilana. Cialente, sono pulito rifarei tutto, questo è il titolo d'apertura. Il sindaco nella bufera dopo l'inchiesta vogliono demolire me e Trifuoggi. Di spalla, tangenti, appalti, ecco chi sono i 36 indagati ad Avezzano. La fusione, carichietti, Ubi annuncia tagli di esuberi. Popolare di Bari, troppi furti, 60 bancomat chiusi nel weekend. In basso, tangenti in nove sotto processo per l'inchiesta sui puntellamenti. Tra gli imputati, l'ex assessore Tancredi, tecnici e imprenditori. Sul Mona, il comune non paga il cantiere, ferma i lavori. Poi ancora siamo all'edizione di Chieti, Lanciano Vasto. Cerca i salvavita farmacia chiusa, medicine introvabili all'ospedale di Chieti a causa della chiusura per la festa patronale. E poi ancora a Miglianico, morte evitabile, fratelli precipitati dal ponte, mancava la segnaletica. In basso a vasto amianto, l'Inps rivuole i soldi, gli operai ex svoa rischiano di restituire le indennità. E a Lanciano crolla il solaio di un negozio, paura in centro. L'edizione terramana del centro si allarga l'inchiesta sull'acqua nel mirino della procura tutto ciò che minaccia la falda del Gran Sasso. E poi inaugurata ieri la fiera dell'agricoltura che scommette sui giovani. E poi in basso un terramano di 44 anni, ciclo amatore cade ed è in coma, operato a una vertebra, si è aggravato in ospedale. Martinsicuro, parcheggio a pagamento, affidati ai privati. Ed ora la prima pagina dell'edizione pescarese, il titolo di apertura. Mare inquinato vicino al porto. Nuovi test dell'Arta sul litorale malato, migliore in via Balilla e via Galilei. Poi vedremo un inserto di quattro pagine all'interno dell'edizione odierna del centro, pianeta marioana. Vedremo anche cosa ne pensano i politici. La fotonotizia, Cassazione, fine dei mantenimenti facili perché divorziare non è più conveniente. E poi di spalla per la politica l'assessore Di Pietro Lascia, Alessandrini richiama i Teodoro in giunta. E poi andiamo in basso, madre muore nello schianto, la donna a 36enne era in auto col marito e la figlioletta. E poi niente funerali, Pino Ciccantelli, le ultime volontà. Siamo alla prima pagina dell'edizione odierna del messaggero Abruzzo, Gran Sasso, la verità sull'acqua. A Teramo si riuniscono i tre PM e i carabinieri del NOE che indagano sull'emergenza. Sotto esame i referti delle analisi, inchiesta sulla impermeabilità delle condutture. E poi sotto la testata, corsa al rettorato, la parola a Caputi farò tornare il clima di serenità all'annunzio. Sempre a Teramo il ministro della Salute Lorenzin, questo acceleratore è un miracolo tecnologico italiano. A Pescara soltanto preghiere sulla bara, niente funerale per Ciccantelli. All'obitorio il mesto pellegrinaggio di parenti e amici dell'ex sindaco. Il suicidio potrebbero averlo spinto anche dei motivi professionali. Di spalla, accoglienza dei migranti, D'Alfonso a Bruxelles, Parlamento europeo. Il presidente partecipa al comitato delle regioni. E poi in taglio medio leggiamo tar dimissioni improvvise del presidente. Urbano era stato nominato cinque mesi fa in pensione dopo gravi fatti interpersonali. Poi la fotonotizia a Penne, auto si schianta, Alessia muore a 34 anni, tornava a casa con marito e figlioletta che sono feriti. E poi in basso all'Aquila puntellamenti, sei a giudizio. La prima pagina della città, ecco il titolo d'apertura, mancano ancora le analisi decisive attesi da Padova e riscontri su odore e sapore non conformi rilevati nell'acqua l'8 di maggio. Poi sotto la testata a Pescara il volo dirottato all'aeroporto d'Abruzzo, passeggera molesta la hostess. Il pilota atterra e la fa scendere. E poi Tercas reagisce ai ladri via il denaro dai bancomat nel weekend. La fotonotizia al centro, sull'acqua servono controlli più veloci, interviene anche il ministro Lorenzin. L'editoriale del direttore Alessandro Misson, se l'acqua è un rischio. E poi l'esperto di crisi, di spalla Cianciotta, se l'ente pubblico non ha fatto il militare. In basso oggi il vertice della magistratura, tornando sempre al caso dell'acqua, la procura verificherà anche i protocolli di sicurezza. E poi in basso addio Teramo, promozione ad arcivescovo entro Natale per Monsignor Michele Seccia. Lasciamo per alcuni minuti le pagine dei quotidiani locali. Abbiamo visto tutte le prime pagine dei quotidiani che poi andremo a sfogliare all'interno. Adesso ci dedichiamo alle prime pagine delle testate nazionali. E partiamo dal Corriere della Sera. Scuola, vaccini obbligatori, mossa di Lorenzin, fedeli frena, lira di Renzi nel governo più coordinamento. La ministra della Salute porterà un decreto ai colleghi. Gentiloni ne era al corrente da giorni. E poi c'è sotto la testata questa intervista, trampe le tasse, un taglio record che farà tornare le imprese a casa. Poi ancora leggiamo legge elettorale i due modelli, partiti e riforma. E poi il capitano del Noè, il capitolo sui servizi, Woodcock, disse fai così. Andiamo avanti con la prima pagina di Repubblica. Senza vaccino, niente scuola, ma il governo stoppa Lorenzin. La ministra Fedeli dice va garantita l'istruzione per tutti. E Palazzo Chigi blocca il testo. E poi sotto la testata, così l'Italia ha lasciato annegare i miei bambini. Il medico siriano Mohamed Jamo racconta il naufragio del 2013 e la sua seconda vita. Il sospetto, ci hanno abbandonati credendo che nessuno avrebbe potuto rivelare la vera storia. E poi la sofferenza. Ho perso due figli, un dolore immenso. La Germania mi ha permesso di rinascere e tornare a fare il chirurgo. Andiamo avanti con la prima pagina del messaggero. Vaccini, un caso, l'obbligo a scuola. Lorenzin annuncia il decreto risposta alle fake news. Fedeli, così lede il diritto all'istruzione. Tensione del governo, il provvedimento slitta. Renzi, va fatto subito. Gentiloni, polemica sterile. E poi l'editoriale di Francesco Caringella. Equilibri da riscrivere. Le leggi in eccesso e i confini delle toghe. In taglio medio, italicum corretto anche al Senato. Riforma elettorale, ecco il testo base. C'è il sì di 5 Stelle e Forza Italia, ma dubbi del PD. E poi la fotonotizia. Olimpico già esaurito per l'ultima di Totti. Roma Genoa, assalto ai botteghini sul web. Biglietti a 500 euro. E poi tornando alla cronaca. Rogo delle bimbe Roma, la procura ai nomi dei tre killer di Roma. A lanciare la Molotov, un pregiudicato per furto. Individuati due complici. Paura per le vendette. E poi il Russiagate. Trump ammette. Chiesi al capo dell'FBI se fossi indagato. La prima pagina del Fatto Quotidiano. Questa l'apertura. Etruria. Unicredit. Si muove il Quirinale. Mattarella vuole notizie sulla Boschi. De Bortoli. Storia di massoneria. E poi di lato leggiamo il banchiere al babbo. Mi porti da Renzi. Anziché da sua figlia. E poi in taglio medio. Video erotico e gogna sul web. Un altro caso. Tiziana Cantone. Sui social network. Le immagini private. Il nome della ragazza. E il di legge. Poi l'intervista. La vignetta. Altro che Brigitte incinta. Per noi dice Arliebdo. Macron. Non farà miracoli. La prima pagina di Libero. Altro che fantasia. L'idiozia al potere. Il nostro PIL cresce. Per meno di tutta l'Europa. Ma per salvare le banche e il debito pubblico. Toccherà nuovi record. Modello telesco corretto. Né preferenze né maggioritario. I politici si affannano per la legge elettorale. Senza combinare nulla. E poi il governo non ferma i flussi di clandestini. Anzi destina oltre 4 miliardi per i profughi. Ma solo 600 milioni alle famiglie. La fotonotizia. Show dell'Argentina al processo contro l'ex fidanzato. La vera storia di Corona. La racconta Belen. La prima pagina di avvenire. Vaccini obbligatori. Ma il governo frena. Lorenzin. Decreto pronto. Fedeli. Non per la scuola. La prima pagina della verità. Boschi. Cinque motivi per dimettersi. I ministri. Idem. Lupi e Guidi. Costretti a lasciare per molto meno. Lei stessa aveva chiesto la testa della cancellieri per una telefonata e imbarba le promesse. Nella banca saltano posti di lavoro. Avanti con la prima pagina del tempo. Ecco la rete mondiale dei pedofili. Intercettazioni dell'orrore. Sesso con bimbi tra i 3 e i 12 anni filmati e venduti sul web. Oltre 45 mila clienti tra Roma e gli Stati Uniti. Se siete impressionabili non voltate pagina. E poi la fotonotizia al centro. L'inchiesta sulla nuvola di Fuxas. Ora la Corte dei Conti indaga sullo sconfinamento in strada. E poi contratto e premi di produzione. Sciopero epocale. La RAI si ferma il primo di giugno. La stampa Etruria. Un altro caso nel governo. Non solo polemiche su Boschi. Un esponente dell'esecutivo chiese nel 2015 a BPR di intervenire. Sulla crescita d'Italia si conferma ultima in Europa. Legge elettorale. Adesso il PD cerca la Lega. In arrivo la commissione d'inchiesta sulle banche. Il governatore di Banca Italia potrebbe rivelare gli allarmi mandati alle procure. E poi la fotonotizia. Corbyn riporta i laboristi nel passato. Elezioni inglesi. Il leader della sinistra vuole nazionalizzare ferrovie, poste ed energia. La prima pagina del mattino. Il capitano coinvolge Woodcock. Scaffarto IPM di Roma. Fu lui a dirmi di inserire gli 007 negli atti di indagine. Consip. L'inchiesta sulle prove falsificate. La procura di Napoli ora si smarca. Mai espressa fiducia al NOE. E poi in taglio medio. Vaccini. Lite sull'obbligo a scuola. La prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. G7 a Bari. Segnali di crescita. Ma l'Italia resta a maglia nera in Europa nel 2017. Nel prossimo anno. Padovan. Previsioni vicine alle nostre. Rialzo dell'1,1% fino a dicembre. La prima pagina del secolo XIX. Governo un'altra spina sul caso Banca Etruria. Dopo la vicenda Boschi spunta una nuova richiesta di aiuto. Il carabiniere accusato ora in guaia. Il PM Woodcock. La prima pagina dell'unità. I vaccini. Prima di tutto pronto il decreto che li rende obbligatori per iscrivere i bambini a scuola. Il governo frena perché va sciolto il nodo del diritto all'istruzione. E poi qui l'inchiesta. L'appetito delle mafie. Oltre i 5.000 ristoranti. In mano alla criminalità. Sabella. Si comprano pezzi di Stato. Possiamo lasciare le prime pagine delle principali testate nazionali. Torniamo alle testate locali. Andiamo al centro. Andiamo all'interno a pagina 7. Il caso in Abruzzo. Troppi furti al Bancomat. Banca Popolare di Bari chiude 60 sportelli. L'iniziativa della Banca Popolare di Bari. Servizio sospeso dal venerdì al lunedì. La misura nelle località più isolate. Ma nessun costo aggiuntivo per i clienti. Negli ultimi 8 mesi le filiali dell'Istituto di Credito hanno subito ben 11 attacchi. Con due scassi. E nove con esplosivi. Che hanno prodotto danni per circa 750.000 euro. E poi ancora siamo in Abruzzo. Ecco probabilmente c'è qualche problema. Ora cerchiamo di ripristinare per la visibilità delle pagine del centro che stavamo sfogliando. Ok comunque siccome eravamo arrivati a una pagina del centro. Pagina 10 dove si parla di contributi alle imprese per 16 milioni di euro. Questo progetto è stato presentato ieri in Regione. Noi eravamo presenti quindi vediamo il servizio. Presidente Lolli 16 milioni di euro per le aree di crisi. Una boccata d'ossigeno per queste zone della nostra Regione. Siamo la Regione che è riuscita a ottenere il più alto numero. Circa metà, arriviamo a 600.000 abitanti, metà del territorio regionale classificato come aree di crisi. Noi abbiamo accompagnato a questa legge, un milione e mezzo non è la portata di tutte le aziende naturalmente, un nostro intervento con 16 milioni di euro per fare sulle stesse aree premiare le attività a cosiddetti in de minimis, cioè con investimenti da minimo 50.000 euro fino a un massimo, come dice l'Europa, di 200.000 euro. La cosa è particolarmente significativa perché noi abbiamo voluto inserire nella parte rendicontabile, quindi finanziabile, anche interventi che le aziende fanno sul proprio plan, sul proprio stabilimento per quanto riguarda il miglioramento sismico. Abbiamo già messo in campo più di 40 milioni di euro, siamo perfettamente in linea con quanto stabilito dal programma e con quanto negoziato con l'Europa. Credo sia una buona notizia. Io debbo dire che sulla vecchia programmazione il numero di imprese che ha partecipato è stato superiore alla dotazione, quindi noi ci aspettiamo che anche in questo caso ci sia una grande risposta che assorbirà interamente le risorse e qualora le assorbisse tutte le risorse potremo eventualmente ragionare su collocare altre risorse ancora. E in effetti ecco qui la pagina del centro, contributi a chi investe nelle aree di crisi, dalla regione 16 milioni per l'innovazione tecnologica, marketing, adeguamento sismico, le domande entro il 28 giugno. E poi per la politica, Fitto porta in Abruzzo direzione Italia, qui il terreno è fertile, a Pescara la prima assemblea regionale del movimento di centrodestra guidato dall'ex delfino di Silvio Berlusconi. Vogliamo dare spazio a chi si rifugia nell'astenzione o che si ferma in posizione di attesa. Abbiamo già degli amici nelle liste civiche, l'obiettivo sono le politiche. Scure sui costi, Ubi Banca e Suberi in Carichieti. L'istituto annuncia tagli anche in Banca Etruria e Banca Marche, ma senza licenziamenti. Oggi l'incontro con i sindacati. E poi ancora andiamo alle pagine della cronaca di Pescara. L'addio a Ciccantelli, niente funerale per l'ex sindaco, il figlio e la sua volontà. Non sarà allestita neanche la Camera Ardente in Comune, secondo le richieste lasciate alla famiglia. Ma ieri pomeriggio tanti amici politici di oggi e di ieri gli hanno reso onore all'obitorio di Francavilla. Poi alcune testimonianze. Lottatore appassionato, amava la città, ricambiato. Giuseppe Quieti, storico assessore e consigliere comunale, deputato DC, ricorda l'amico e collega di partito. Memorabile il suo impegno per la pineta. E poi il centro ricorda come siano scomparsi tre ex sindaci di Pescara in un mese e mezzo. Pace investito da un'auto sulle strisce pedonali. Poi la morte di Piscione e il dramma di Ciccantelli. A Pescara ancora d'attualità purtroppo la vicenda del mare non pulito, litorale malato, mare ancora inquinato vicino al porto canale. I risultati delle ultime analisi con i batteri elevati a 300 metri dal molo, via Galilei e via Balilla nella norma. Parte la richiesta di revoca di altri divieti. Ma lo stato di salute della costa è variabile, parla Damiani, ex direttore tecnico dell'Arta. Correnti, vento e pioggia influenzano la balneazione. E poi per la politica. Di Pietro lascerà la giunta. Il sindaco rivuole Teodoro. L'assessore alla Nagrafe è pronta a dare le dimissioni. Entro la fine del mese Alessandrini convoca l'ex consigliere. Possibile un ritorno di sua figlia Veronica. E poi scontro in consiglio sulla pista di via Amoro. L'ite tra maggioranza e opposizione la delibera per completare l'opera, bloccata da 80 emendamenti. Museo del mare, approvati i lavori, via Libera dell'Aula. L'ampliamento dell'opera è rimasta una incompiuta per anni. Siamo sempre a Pescara. Daniele Toto ha processo per bancarotta. L'ex parlamentare ha rinviato a giudizio insieme al padre e alla madre per il fallimento di tre ditte di famiglia. L'ex deputato aveva chiesto di spostare il processo da Pescara. La Cassazione ha detto di no. Maxi richiesta di danni dalla curatela di una delle imprese. 8 milioni di risarcimento. Poi ad Avezzano tangenti e appalti in sette comuni, 36 indagati. Così la gola profonda ha svelato il sistema Marsica. Tutte le accuse della Procura. Il sindaco di Cerchio Tedeschi è accusato di aver preteso il pagamento di 1,5 euro per ogni punto luce installato dalla società Saridue nei comuni della Marsica. Capogna avrebbe ricompensato da Olerio anche con 1.249 euro di porchetta in occasione della festa organizzata per la sua elezione a primo cittadino di Ortucchio. E poi in basso, favori in cambio di assunzioni, l'accusa ad Avezzano spunta una falsa fattura da 70 mila euro a Santo Maggio. Proseguiamo e qui siamo appunto nella quattro pagine dedicata dal centro al cosiddetto pianeta marijuana. Droga legale o no, toghe e politici divisi. Woodcock e Roberti, la repressione è fallita. Le frasi dei PM riaprono un dibattito e qui ci sono i punti di vista di un politico come Maurizio Acerbo e poi anche dei magistrati come Harry John Woodcock, come Nicola Gratteri, poi anche Franco Roberti. Avanti ancora il dibattito in Abruzzo. Onorevoli a confronto prevale il sì. Melilla e Pezzopane firmatari della legge per la legalizzazione. Cautovacca, Sottanelli è contrario. Razzi teme che porti all'uso di droghe pesanti. Dincecco parla da medico, bisogna trovare un equilibrio e per Piccone c'è il rischio di farne abuso. Parla anche il sottosegretario Chiamaroli. Legalizzarla fa male a chi è fragile. Il rischio è lo stesso del gioco di Stato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. E poi ancora da dipendenza, anche se è leggera il parere di De Giglio, presidente nazionale dei medici contro le tossicodipendenze. Il 45% dei ragazzi ne ha fatto uso. La scuola dove si fuma meno è il liceo classico. Droga legale o no, spaccio, il grande affare dall'Albania all'Abruzzo. Pescara è l'epicentro del commercio. Il mercato è sempre nelle mani dei Rom che trattano i grossi quantitativi direttamente con i boss dei Balcani. E poi l'ultimo sequestro da un chilo in casa dell'Avvocato. Un mese fa scoperte due tonnellate di marijuana in un capannone a Fossa Cesia. Torniamo a Pescara con le memorie della città, l'istuardo di Summa, dall'oblio alla rinascita. L'enorme segno urbano realizzato dall'artista nel 1976 contro l'asse attrezzato, recuperato col sostegno di Gianni Di Ioz e donato al Museo delle Genti d'Abruzzo. E poi in basso, in 500, seguono le spoglie del Beato Nunzio, la processione per le celebrazioni del bicentenario della nascita. Intanto la santificazione è vicina. Mostra al mercato a Francavilla. Fiori, fragole, tipicità, oltre 90 espositori sul lungomare Tosti. La manifestazione domani e domenica ricco il programma tra street food, premi, giochi, sport, DJ set e visite guidate. E in basso, Francavilla blindata per il Giro d'Italia. Domenica scattano i divieti per il passaggio della carovana rosa. Andiamo con le pagine di Montesilvano. Ancora la polemica sui migranti. Pronto l'esposto con 100 firme. Se i consiglieri comunali e i presidenti delle associazioni vogliono andare in procura, speculazione sull'accoglienza. Le parole di consigliere Antonio Agliano. Un giro di affari tra cooperative e gestori di alberghi. E ora con gli Sprar anche i cittadini tentano di lucrare. E poi Stella Maris, colonia contro il degrado. Il consigliere Di Stefano rilancia la proposta. No al cemento. L'edificio va usato per scopi sociali. In basso, Tari, la prima rata. Il 30 giugno slitta il pagamento della bolletta sui rifiuti. Non cambiano le agevolazioni. Siamo a Penne. Per la cronaca incidente nella notte. Schianto in auto. Muore giovane mamma. La punto condotta dal marito di Alessia Cascia. È finita contro un albero all'ingresso di Penne. È ferita la bimba della coppia. Avanti ancora con la pagina di Chieti. Caso al policlinico. Cerca i salvavita ma la farmacia è chiusa. Nel giorno della festa patronare la struttura è inaccessibile. Piovono proteste per la mancata comunicazione. Poi parla Mauro Massi del TDM. Abbiamo chiesto di avere maggiori informazioni su quello che avviene in ospedale ma senza mai ottenere adeguato riscontro. A Miglianico il giallo dei cartelli stradali mai visti prima. La tragedia dei fratelli Timperio. Il giudice vuole testimonianze su due segnali apparsi dopo. In basso amianto l'Inps rivuole i soldi delle indennità. A basto dipendenti ex SVOA rischiano di restituire fino a 80 mila euro a testa. Il caso finisce al ministro Poletti. Siamo all'Aquila. L'inchiesta che coinvolge il sindaco uscente. Cialente cupole in azione sono pulito rifarei tutto dice Cialente. In atto un'azione per screditare me e Trifuoggi. Mi sono passati tra le mani 5 miliardi ma la mia vita è sempre la stessa. Non cambio le auto sono il più povero tra gli attori della ricostruzione. Diffondere le telefonate è un ricatto. E poi ancora condotte finalizzate a risolvere i problemi. Ecco le motivazioni che hanno indotto il GUP a scagionare sindaco e funzionario. E contro le quali il PM Gallo ha fatto ricorso in Cassazione per riaprire il caso. In basso tangenti sui puntellamenti 9 a giudizio. Nei guai l'ex assessore Tancredi e i costruttori di Persio e Pellegrini scagionati di Gregorio e Cafaggi. Avanti ancora. No, abbiamo chiuso per ora con l'edizione del centro per quanto riguarda le pagine della cronaca. Noi ora diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi alla pubblicità e poi ci ritroveremo con il messaggero Abruzzo e con la città. A fra poco. Di nuovo buongiorno nella seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con un servizio che andiamo a introdurre con la pagina del messaggero Abruzzo dove si torna a parlare ovviamente del caso dell'acqua del Gran Sasso. Leggiamo l'esame di 3 PM, l'analisi sui campioni magistrati e noi studiano i referti di laboratorio. Si indaga anche sulla impermeabilizzazione delle condotte. Questa mattina la riunione degli inquirenti per il forum H2O il 4 e 5 maggio. C'erano inquinanti. E allora andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione Teramana. Rientrato l'allarme sulla potabilità dell'acqua del Gran Sasso in provincia di Teramo. Da questo momento però si indaga a tutto campo su cosa possa essere accaduto l'8 maggio, giorno nel quale l'asle Teramana ha riscontrato caratteristiche non conformi dell'acqua captata nei pressi del traforo e deciso di informare la popolazione. Analisi che sono poi tornate normali nella stessa notte. Ad occuparsi della vicenda è ora la procura della Repubblica di Teramo. Il procuratore Antonio Guerriero ha deciso di affidare l'inchiesta ad un pool di tre magistrati esperti in reati ambientali. Stefano Giovagnoni, Greta Loisi e Davide Rosati. Saranno loro ad accertare se ci sia stato un reale inquinamento o se si sia trattato di un procurato allarme. I giudici hanno già ascoltato la responsabile dell'ufficio Sian dell'asle di Teramo, Maddalena Marconi, che ha firmato il documento che accertava la non potabilità dell'acqua e il presidente della Luzo Reti, Antonio Forlini. L'inchiesta avrebbe comunque già accertato che tutto è stato fatto rispettando le regole previste dalla legge, che impone all'asle di avvertire popolazione e gestore della rete idrica in caso di dubbio sulla bontà dell'acqua. In questo caso forse si è trattato di un eccesso di zelo, visto che nell'Aquilano, con le stesse analisi, non è avvenuto nulla di quello che Teramo ha invece vissuto per 12 ore. La magistratura però vuole vederci chiaro e continua ad indagare per capire che cosa abbia reso l'acqua dell'8 maggio di colore e di odore diverso, anche se non pericolosa. Intanto quelle provette per il momento non si trovano. Proseguiamo sempre sul messaggero Abruzzo. Nuovo ospedale d'Alfonso alla Asle. Tre giorni per consegnarci gli atti. Lo scopo è consentire alla regione di esprimersi sulla fattibilità del project financing per il policlinico. Siamo alle pagine di Pescara. Ciclone Altar. Dimissioni improvvise del presidente. Amedeo Urbano in pensione immediata dopo appena cinque mesi dalla nomina. Gravi fatti interpersonali in ufficio sarebbero alla base della motivazione. Aperto un fascicolo in procura sulla vicenda, le udienze di oggi saranno presiedute da Amicuzzi. Poi Giorgio Pasotti Alflaiano parla di cultura e legalità. L'attore incontra gli studenti. Regia di Davide Cavuti. Un invito a teatro con omaggio ai figli d'Abruzzo. Poi ancora Ciccantelli. Addio senza funerale. All'obitorio di Francavilla il mesto corteo di parenti ed amici. L'ultimo saluto all'ex sindaco morto suicida sotto un treno. Cordoglio bipartisan della politica. Si indaga sui motivi forse professionali ma i fatti del 93 lo avevano segnato. In Consiglio Comunale il commosso ricordo da parte di Presutti e Antonelli. Il dolore della moglie Carla e dei due figli. La cronaca autocontro albero muore una mamma. Tragedia della notte appenne. Feriti il marito che guidava e la figlioletta Alessia Cascio aveva 36 anni. La famiglia tornava a casa da San Buceto. Un colpo di sonno la possibile causa. Siamo alle pagine aquilane. Affitti light per negozi e uffici. Cialente basta speculatori. Capoluogo diviso in zone. Il centro più caro si risparmia però nei vicoli vicino al Duomo. Tutti i prezzi delle locazioni area per area nelle frazioni. Forbici da 10 a 15 euro al metro quadro. L'accordo raggiunto tra le associazioni è stato sottoposto al primo cittadino che potrebbe firmarlo dopo l'esame dei dirigenti. In futuro potrebbe essere limitata la concentrazione di pub e altri locali notturni. E poi ancora PD Fabio Pelini torna a casa. Due liste per Nicola Trifuoggi. Poi sempre in vista delle elezioni comunali. Mancini guida i democratici e socialisti. Sempre all'Aquila. Risarcimento. Si cerca la soluzione politica. L'avvocatura dello Stato chiederà la restituzione delle provvisionali. D'Alfonso dice, parlerò con gentiloni, esistono legalità e legittimità. Poi le parole della parlamentare Pezzopane. Bene l'apertura del ministro Anna Finocchiaro. Blundo, ennesima beffa. E in più vengono chiesti gli interessi. Tangenti a processo Tancredi e altri cinque. L'ex consigliere deve rispondere anche di estorsione. I dirigenti del comune Aquilano scagionati dall'accusa di abuso di ufficio. avanti con la marsica. Tangenti tedeschi contesta. Tonelli lascia l'inchiesta sulle presunte mazzette per l'illuminazione. Il sindaco di Cerchio dice, innocente e perseguitato da una vita. Per il senatore Piccone si configura l'ipotesi di falso. Pool di avvocati in azione dopo gli atti della procura. Indagine solo agli inizi. Nulla di certo, ma è polemica in coincidenza delle elezioni. Pagine di Chieti. Caputi riorganizzerò l'Ateneo. Più corsi, bassi costi e serenità. Il programma del candidato rettore. La priorità è riordinare gli uffici. Il personale amministrativo talvolta ha lavorato in un clima di paura. Il direttore di scienze mediche che ha trasformato il dipartimento in un modello accademico virtuoso. Poi ancora l'inchiesta precipitati nel fiume il giallo dei cartelli sul ponte maledetto. Udienza preliminare per l'incidente mortale dei fratelli d'imperio a Miglianico. Il GUP convoca due cantonieri prima di decidere sui quattro imputati. La madre delle vittime è parte civile. Poi, sempre per la cronaca, quell'appartamento non è mio, ma mi chiedono di pagare le tasse. La storia di Rosaria, bollette pazze da teate servizi. Caso di omonimia. Già nel 2014 mi mandarono la Tares. Poi ammisero l'errore. Siamo a Lanciano, rifiuti 12 milioni di euro alla Ecolan, la società partecipata che gestisce la raccolta a Lanciano e in 35 comuni riceve il maxi finanziamento dalla regione. La maggior parte dei soldi verrà utilizzata per realizzare un centro dove verrà trattato l'umido. Il crono programma. Il 24, l'inaugurazione di una nuova piattaforma per i riciclabili. La soddisfazione del Presidente. Siamo alle pagine di Teramo. Lorenzini, il nuovo True Beam è un vero miracolo italiano. La Ministra della Salute Almazzini per inaugurare l'acceleratore lineare. Paolo Tancredi diventa bodyguard. Paolucci, le risorse ora ci sono. I sindaci donna della provincia per uno scatto assieme all'esponente del governo Gentiloni. E poi ancora Monsignor Seccia a Lecce. No, grazie, avvertirò io. E poi ancora per la cronaca. Polizia penitenziaria in sciopero al carcere di Castrogno. E poi in basso, Fiera dell'Agricoltura. Brucchi rimette la fascia. Il sindaco lancia stoccate agli invidiosi. Pepe, sostegno alle imprese del territorio. E poi sulla costa Giulianova portano d'acqua agli asili. Mamme respinte. È vietato dalla legge, ha dichiarato il dirigente Simeone, che parla di ritorno alla normalità, ma c'è chi si riprende i figli. Interviene anche il vice sindaco Camelli, che chiede si faccia chiarezza sulla vicenda. Spiega il caso del menù senza polpette. Intanto Mastromauro convoca un consiglio con Arta, Asl e Ruzzo. E poi a Rosseto degli Abruzzi, riserva naturale del Borsacchio, arrivano gli stanziamenti europei. Le parole del sindaco di Girolamo. Sarà la prima porta dei parchi in Abruzzo, con mappe e visite guidate. Lasciamo anche il messaggero Abruzzo e approdiamo sulle pagine della città il quotidiano della provincia di Teramo. Anche in questo caso parliamo dell'acqua del Gran Sasso, il gelo dei rubinetti. Mancano ancora i dati sulle analisi decisive. A quattro giorni dall'allarme, nessun risultato per i prelievi eseguiti sull'acqua. Di odore e sapore non conforme. Nel Mirino, Ministro, Assessore regionale e Asl parlano di necessità di analisi più rapide e di procedure più snelle. E poi oggi vertice in procura, in attesa dei risultati dai laboratori di Padova, Carabinieri del Noe, pool di magistrati in attesa di entrare in possesso di tutti gli atti di indagine sull'accaduto. E poi l'indignazione. Neanche i primi cittadini si fidano dei dati, delle analisi e danno incaricato delle aziende private. I primi risultati di notaresco sono comunque confortanti. E poi l'intervista. Se l'ente pubblico non ha fatto il militare, parla l'esperto Stefano Cianciotta, analisi del rischio e gestione della comunicazione, la pubblica amministrazione dovrebbe andare a scuola dalle forze armate. Unità di crisi analizza i rischi di una situazione e prepara la risposta adeguata ad ogni possibile scenario. E avanti a pagina 6, la crisi in comune. Fibrillazioni per la prima verifica di maggioranza. Stamattina conferenza dei capi gruppo per fissare il primo consiglio utile per discutere della crisi a Palazzo. Lunedì conferenza congiunta dei centristi Dalmati, dei fittieni di Di Stefano e di Fratelli d'Italia. Il problema, i dissidenti chiedono prima il taglio in giunta, il resto dei gruppi invece vuole prima un confronto aperto. E poi alcuni possibili scenari. I due Paoli, intesi come Paolo Gatti e Paolo Tancredi, terranno in piedi brucchi per tutta l'estate. E poi ancora, terramane ambasciatrici della lotta al cancro. Il ministro Lorenzin al Mazzini per l'acceleratore lineare e la campagna di prevenzione del tumore. Per il ministro, avere un acceleratore di ultima generazione in un ospedale di provincia è un vero e proprio miracolo. Inaugurata la Fiera del Rilancio dell'Agricoltura allo stadio di Piano Daccio, un fine settimana dedicato al meglio della produzione terramana. Oltre 200 espositori, forum, convegni su 25.000 metri quadri con un bus navetta e 2.400 posti auto. Allora, vediamo il servizio della nostra redazione terramana proprio sulla inaugurazione della Fiera dell'Agricoltura. Un weekend lungo da trascorrere a Terramo visitando la 29esima Fiera dell'Agricoltura che è fino a domenica a Terrabanco nell'area adiacente allo stadio Bonolis di Piano Daccio. 200 espositori con le ultime novità del settore agricolo, la fattoria degli animali e serate tra food e musica. La crisi politica al comune di Terramo non blocca la Fiera dell'Agricoltura? Assolutamente no, perché sono due cose che camminano su strade parallele che non si incontreranno mai. Che cosa vi aspettate da questa nuova edizione? Beh, ci aspettiamo il successo degli altri anni e che si notino le novità che noi abbiamo cercato di portare all'interno di questa edizione. Quali sono queste novità? Le novità principali, insomma, avremo tantissimi convegni a tema che verranno fatti all'interno della fiera. Abbiamo oltre 200 espositori, abbiamo individuato delle aree parcheggio in più per circa 800 posti auto. La sera il food quest'anno viene spostato all'esterno dell'area fiera ma è adiacente e quindi la fiera chiuderà intorno alle 21 e successivamente si può andare, come dire, in quest'area dove saranno spettacoli fino a domenica e quindi sperando che la gente magari rimanga dopo, anche a divertirsi. Un'abbocata d'ossigeno all'agricoltura terramana dovrebbe presto arrivare da governo e regione Abruzzo che hanno approntato piani di risarcimento per le aziende locali messe in ginocchio da sisma e maltempo. Ma l'Abruzzo si rilancerà attraverso l'agricoltura? Penso proprio di sì e soprattutto quella terramana dopo le vicende tristi di gennaio, dopo il terremoto, la neve, la mancanza di energia elettrica, l'agricoltura eroica della montagna terramana ha sofferto tantissimo. Proprio in questi giorni stanno arrivando i contributi agli allevatori zootecnici che hanno tanto sofferto in quelle settimane e dopo l'intervento del Ministero e della Regione sono in arrivo i contributi di 400 euro a bovino, 60 euro a dovino e 20 euro a suino. Sono contributi importanti per cercare di rilanciare l'economia zootecnica di montagna e questa fiera quest'anno assume un valore particolare di ripartenza dell'economia e dell'agricoltura in maniera particolare. E intanto le eccellenze terramane sono sempre più apprezzate, in particolare nel settore ovino. Queste vostre pecore sono un po' speciali, perché? Sono speciali che sono ad alta produzione di latte e anche carne. Quanto latte produce una pecora? Una pecora di queste produce di media sei quintali con una lattazione. Prossimiamo sulla città, promozione in vista per il Vescovo Seccia. Entro Natale lascerà la diocesi di Teramo per assumere la carica di Arcivescovo Metropolita di Lecce. E poi ancora via il denaro dai Bancomat durante il weekend. Tercas e Caripe sospendono l'erogazione in 60 TM per evitare altri colpi della banda della marmotta. Adottato in 60 su 130 sportelli Bancomat. Questo provvedimento, sportelli considerati meno sicuri nel mirino della banda dei ladri. Sicurezza, oltre al denaro e alle strutture, a rischio anche l'incolumità delle persone che vivono vicino agli ATM. Proseguiamo con le notizie dalla provincia. Qui siamo a Civitella del Tronto. Fondi per Ponzano fuori le carte. Tucci incalza il sindaco Di Pietro sulle promesse di delocalizzazione. I cittadini di Ponzano non avranno un trattamento diverso da quelli che sono cratere sismico. E poi ancora a Giulianova. L'ite al mercato tra regolari abusivi e extracomunitario occupa lo spazio tra le bancarelle scoppio e il putiferio. Sempre più frequenti gli episodi di tensione tra venditori regolari e occasionali durante il mercato del giovedì. E poi ancora il conto per i controlli dei serbatoi lo mandiamo direttamente al Ruzzo. 75 condomini pronti a bloccare i pagamenti dopo il nuovo allarme sull'acqua. L'amministratore di 75 palazzine presenta il conto delle spese per le analisi e per la sanificazione. E poi ancora andiamo con la pagina dello Sport. Vincere per riscattare questo campionato. Alessandro Di Polantonio carica il terramo. Avrei preferito la prima in casa. Il gol pagherei oro per segnarlo. I play-out sono giusti. Abbiamo fallito davvero troppe partite. Specie nell'ultima parte di torneo. Intanto da oggi diavolo al lavoro sul campo di Roseto degli Abruzzi. E poi in basso la Terramana Sabatini, parliamo di atletica, stabilisce il minimo per gli europei under 20. A Sulmona corre gara solitaria sui 1.500 in 4 minuti 28 secondi e 61 decimi. Bene gli allievi Salvatore Angelozzi e Valeria Latino nella velocità. Possiamo lasciare la città e torniamo sulle pagine del centro per vedere le pagine appunto dello Sport. Zeman compie 70 anni. Io il fazzoretto rosso e il mondo confuso. Il tecnico da Praga a Pescara, dal comunismo al calcio. Non sento il peso dell'età. Ed è questo l'aspetto positivo. Il sogno nel cassetto, godere di buona salute. Sono cattolico e credo ancora nella famiglia. Poi i migranti, il vero problema è la mancanza di lavoro. Bisogna inventarsi nuovi mestieri. Farò di tutto per riportare la gente allo stadio adriatico. Dunque auguri a Zeman per i suoi 70 anni. E poi qui leggiamo sempre nel 1969 l'arrivo a Palermo. Il flirt con la moglie in piscina. Poi un'altra bella notizia che riguarda l'Abruzzo. Il giuliese Di Martino arbitrarà la gara contro il Bologna. Bologna-Pescara sarà dunque il debutto. Segnerebbe il debutto in Serie A per Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Dunque raggiunge in tal senso un altro arbitro della sezione di Teramo che da anni arbitra in Serie A. ovvero Calvarese. Andiamo avanti con la Lega Pro di Paolo Antonio. Pagherei per segnare il gol salvezza aspettando i play-out. Il centrocampista, l'andata a Lumezzane, sarà fondamentale. Andremo lì senza pensare di difenderci. Ma attaccando il diavolo intanto si allena a Roseto. Allora andiamo anche noi ad ascoltare le parole di Alessandro Di Paolo Antonio. Tutti adesso dicono che il Teramo non prende gol, quindi con 2-0-0 dovrebbe farcela. Però come detto i play-out sono un terreno all'otto, posicere di tutto. Quindi se tu entri con la mentalità che dici va bene, sono quattro partite che non prendo gol, quindi sto lì, mi difendo. Penso che sia una cosa sbagliata. Perché noi, come ripeto, dobbiamo pensare a vincere tutte e due le partite. Perché è inutile pensare, pareggiamo qui, poi fare calcoli. Quindi noi, come ripeto prima, andremo a Lumezzane per vincere la partita. Poi, giustamente, ci accontenteremo anche magari di un pareggio, sarebbe oro. Però, come ripeto, la mentalità, pezzomiamo come dei miei compagni, di andare a fare due grandi partite. Siamo arrivati sicuramente con delusione perché potevamo salvarci, dipendevano da noi. Dopo che avevi due partite in casa, come ripeto, e altre partite pure in casa col Parma, non riesci a vincere. Purtroppo sprofondi giù e è giusto che, come ripeto, ci siamo messi in questa situazione. Però ci arriviamo anche un po' carichi perché ultimamente, come ripeto, non stiamo prendendo gol. E dopo la vittoria di Salò ci ha dato, penso, uno sprint in più. Ma, come penso io, tutta la squadra è carica perché nessuno vuole sprofondare. Poi, ti ripeto, la partita di Lumezzane dell'andata, secondo me, ci dirà già tantissime cose. Dopo queste ultime partite, penso che, sì, a livello di lì davanti, comunque facciamo fatica, però ci siamo combattati tantissimo come gruppo ultimamente. Quindi sicuramente dobbiamo caricarci e combattarci in questa settimana che ci servirà per allenarci e andare lì a Lumezzane a fare sicuramente la partita perché comunque siamo una squadra che non era stata programmata per fare i play-out. Quindi sicuramente tocca tirarci fuori e andare a fare una grossa partita a Lumezzane per poi giocarci tutto in casa il 28. Sempre sul centro, Serie D, Pineto vuole ripartire da Amaolo, Avezzano, Del Grosso nel Mirino. Domenica scattano i play-off, l'Aquile e San Nicolo in campo per il primo turno. Per il basket di A2, Cimorosi gode, Di Cosmo incrocia le dita. Il presidente del Roseto, morale alle stelle, a Bologna per regalarci un sogno, il patron della Proger ora fuori l'orgoglio. Il dirigente impegnato nei play-off, gli altri ci sottostimano, vi ricordo, Verona e Legnano. E dalla parte opposta, le parole del patron della Proger Chieti, Di Cosmo, problema di ordine pubblico, l'area del Palatricali è occupata dalle giostre, ridotti gli spazi per i parcheggi. Intanto per i play-out, Giulianova serve gara 3 per la salvezza, Gialorossi battuti a Taranto dopo un supplementare, domenica la bella. Poi per i play-off, ma questa volta di calcio a 5, ecco i verdetti delle gare 2, e trionfo a quest'apone, il Pescara cade in casa, delfino beffato dal Latina, i nerazzurri battono la Cogianco, domani la bella. In basso, Angelini, l'Aquila, un altro sforzo per la finale, rugby play-off di Serie A, il centro neroverde con il Val Sugane in campo senza pensare all'andata. Poi calcio a 5 campioni del mondo, Lotti e Totti premiano la nazionale paralimpica. Andiamo a chiudere con le pagine del messaggero Abruzzo. Pescara risalirai con Zeman, parla l'ex biancazzurro Bergodi, questa squadra non è più forte della mia, ma speravo nella forza del nucleo storico. Tre anni fa con il mercato rovinammo un ottimo lavoro, il Boemo non può entrare in corsa, ma per la B è una garanzia. Purtroppo sono stati ripetuti gli stessi errori, sono arrivati giocatori bravi, ma non pronti. In basso, per il campionato di eccellenza, parla l'allenatore dell'Alba Adriatica di Serafino, l'Alba dei Giovani vuole stupire ancora. Per noi la finale è già un grande risultato, ma ora è un passo dal traguardo, non ci tiriamo indietro. La finale si giocherà domenica a Pineto contro il Francavilla. e poi nell'ultima pagina dello Sport del Messaggero, al centro leggiamo il scivolone del Pescara, K.O. in casa con Latina Clamorosa, sconfitta interna 1-2 degli uomini di Colini, che sono costretti a gara 3 dopo aver vinto in trasferta. Biancazzurri poco determinati, una sfortunata autorete di Salas li beffa a due secondi dalla conclusione. Invece la Questapone batte Gensano e conquista la Bella. Per il basket Salvezza sarà il Forlì, l'avversario della Proger, i teatini avranno il vantaggio del fattore campo. Per la pallanuoto Pescara per blindare i play-off, club acquatico verso i play-out. Poi in basso leggiamo il basket di Serie B, le parole del coach dell'amatore di Pescara, Salvemini contro Montegranaro. Servirà una amatori perfetta per quella serie, che sarà un po' la riproposizione della finale play-off del girone della scorsa stagione, quando i marchigiani vinsero dopo 5 partite. Noi ci fermiamo con questa edizione odierna di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con il nostro notiziario alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23, le tre principali edizioni del TG6. Grazie a voi per la cortese attenzione e buona giornata. Grazie a voi per la cortese attenzione e buona giornata. Grazie a tutti.